Ciao leggine, ciao leggini, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di domande e risposte per il mese di luglio andiamo insieme a vedere le vostre domande intanto se non sei iscritto al canale youtube delle leggi della magia fallo subito e se questo video ti piace regalaci un like allora, Azzurra ci scrive riguardo al video che avevo pubblicato delle carte delle parole magiche perché se non l'avete visto è un video tutorial di un mazzo molto bello dove ci sono carte che fanno fare incantesimi dice ma gli incantesimi non hanno effetti nocivi? allora, come saprete io ho fatto anche un corso, potete acquistare un videocorso che si chiama incantesimi con i tarocchi sotto nell'info box vi metto il link e la prima cosa che spiego è che è un fatto di etica allora, noi molte volte abbiamo dei compartimenti stagni nella mente noi non ci rendiamo conto che la nostra vita è tutta un incantesimo quando noi diciamo qualcosa la parola crea infatti alcuni testi sacri che magari conoscete dicono in principio era il verbo proprio perché magari Dio così ha creato attraverso la parola a prescindere dalla connotazione religiosa il punto è che la parola crea quindi quando pronunciate una frase ma anche una, che ne so, ma va così a qualcuno in un certo senso gli state lanciando un incantesimo quindi pronunciare un incantesimo ha sempre a che fare con l'etica personale e per forze vi accorgerete di averne mandati molti contrari all'etica in momenti di rabbia, in momenti di arrabbiatura ok, quindi non fermatevi a, siccome queste sono le carte delle parole magiche o gli incantesimi coi tarocchia sto facendo un incantesimo quando invece parlo e dico, auguro cose oppure nel bene e nel male quelle non lo siano, lo sono quindi la cosa fondamentale sono due uno, attenzione sempre a quello che dite qualunque cosa sia che sia un la mia vita va male ok, anche quello in un certo senso vibra e vuoi o non vuoi può essere chiamato anche quello in un certo senso incantesimo perché poi va a determinare la realtà così come quando vibrate qualcosa invece di estremamente positivo e ve lo attrae chiaramente questo è un grado molto blando di incanto e ci sono gradi invece più elevati perché sono più elevati perché c'è più consapevolezza quindi quando usate uno strumento che siano le carte delle parole magiche ad esempio quindi pescate una carta e sapete che state andando a fare un incantesimo quindi ci mettete l'intenzione perché l'energia segue l'intenzione in quel momento se conoscete le carte ve le ho fatte anche un po' vedere ovviamente non c'è niente contro qualcun altro perché? perché il più grande lavoro che dobbiamo fare è su di noi quindi gli effetti negativi non ci sono nel momento in cui si lavora in un'etica e si lavora in un'ottica di vibrazione positiva c'è la legge del 3 per questo la legge del 3 dice ti torna indietro triplicato quello che fai quindi che tu lo faccia nella vita che quindi magari neghi un aiuto a qualcuno o che tu lo faccia quando fai magia quindi quando lavori con l'energia è uguale perché? perché i tuoi campi energetici fisico, emotivo, eccetera reagiscono e quindi in automatico ti riportano la risonanza di quello che hai fatto quindi è ovvio che bisogna farlo uno se vi va non è una cosa tipo obbligatoria se non vi sentite in linea con qualche pratica con questa cosa se la parola incantesimo per esempio a voi non vi risuona eccetera magari non è la strada giusta per voi semplicemente se però decidete di lavorarci e appunto per esempio anche chi ha fatto il mio corso eccetera io la prima cosa che spiego è l'etica quindi di lavorare di lavorare su se stessi lavorando su se stessi se si cerca di non so per esempio migliorare la propria condizione lavorativa se si cerca di fare un sogno profetico gli effetti negativi possono essere il non ottenerlo però si sta lavorando lanciando diciamo un desiderio perché poi l'incantesimo in un certo senso può anche essere visto in quel modo di attrazione quindi un incanto di attrazione di un lavoro migliore di un sogno profetico eccetera è ovvio che non né né io nel mio corso né l'autore nelle carte dell'oracolo delle carte delle parole magiche vi consiglieranno mai di fare incanti che vanno a essere coercitivi nella volontà di qualcun altro lì l'effetto collaterale ovviamente ci può essere ma l'effetto collaterale in un certo senso c'è sempre perché c'è la risonanza c'è la legge del tre quindi gli effetti di quello che fate ma non solo negli incanti in tutta la vostra vita li avete sempre vi torna tutto indietro triplicato quindi se fate del bene vi tornerà del bene se non fate del bene vi torneranno le conseguenze di quello che avete fatto e quando fate del bene la legge del tre ha il compito di mostrarvi se il vostro bene è allineato con il bene universale questa cosa è molto difficile da capire infatti i percorsi spirituali non sono percorsi semplici perché le persone devono stare nell'umiltà di capire che non anche che sono mosse dalle migliori intenzioni non è detto che sia il bene universale quindi se per esempio voi fate un gesto che reputate giusto e le conseguenze di quel gesto non sono positive forse anche se eravate in buona fede evidentemente quel gesto non era allineato con quello che poteva essere il bene universale di quella persona magari poteva non essere quello che c'era scritto nei suoi registri non era quella la prova che doveva fare vi faccio una sorta di esempio concreto magari prendete di vostra iniziativa decidete di fare una cosa non so per una collega o per un'amica e quella persona non è contenta voi vi aspettavate un grazie e invece vi ritrovate perché lo hai fatto e magari ci vai a discutere con quella persona ok questa è una conseguenza e vi parlo di cose normali perché come vi ripeto è solo un fatto di livelli che si ha un incanto nella vita reale che si lavori appunto ad un livello energetico che si lavori in un livello pratico le leggi della magia il vero cuore del nome che ho scelto per il mio progetto per la mia community è proprio perché la vita porta in sé parte di magia e la capiamo nel momento in cui capiamo che ogni nostro ogni nostra azione comporta una creazione se l'amica non è felice forse quello che vi l'effetto collaterale dell'incanto vi deve far capire che magari avete superato un confine che era il confine di quella persona magari vi dovevate fare gli affari vostri magari non dovevate agire perché non era per il sommo bene di quella persona quindi gli effetti li si hanno sempre ok quello che voi potete fare è stabilire una vostra etica e agire secondo quella appunto che sia anche soprattutto quando agite con le energie quindi lavorare sempre secondo un'etica quindi il mio consiglio che poi anche quello che do nel corso incantesimi con i torocchi è quello di lavorare sempre su se stessi e di assumersi sempre la responsabilità di quello che si va a fare nel momento in cui per esempio fate l'incantesimo per avere più soldi ok un effetto collaterale potrebbe essere avere meno tempo allora quando diventate bravi a fare gli incantesimi mi chiedete sia più soldi e sia più tempo così magari potreste semplicemente avere un aumento e non un aumento di ore ok quindi poi con la pratica però la cosa importante è che l'effetto vi venga in aiuto per limare e capire dov'è che state sbagliando non potete pensare di saperli già fare dovete imparare dovete diventare pratici ugualmente come vi dicevo se la vostra amica reagisce male la prossima volta riformulate meglio l'incanto e quindi dite possa questo incanto avverarsi se è per il sommo bene della persona in caso contrario sia fatta la volontà dell'universo per esempio e accettate che il vostro incanto non si realizzi l'importante è avere coscienza l'effetto collaterale ok come mi aveva chiesto azzurra effetti nocivi lei diceva gli effetti nocivi ci sono se agisci diciamo in modo non allineato però ecco non è tipo una punizione divina è più un fatto di avere delle conseguenze ma agendo con un'etica e chiaramente non prendo neanche in considerazione chi voglia agire in una maniera a danno di un'altra persona perché non è proprio nella mia logica d'azione quindi quella parte neanche la prendo in considerazione secondo me si agisce solo secondo etica perché se no incanto non incanto poi c'è la legge del karma a cui devi rispondere quindi noi cerchiamo sempre di essere allineati essere persone da diecellote nel nostro massimo lavorare su noi stessi per migliorarci e alla fine in questi in questa ottica degli incanti delle parole potenziate possono venirci in aiuto ovviamente devono essere allineate con voi così gli effetti saranno gli effetti a norma della legge del tre quindi se hai lavorato bene riceverai il triplo se hai lavorato a danno di altri ne vivrai le conseguenze ma è giusto così no? è la legge del tre spero cara di averti risposto allora poi Tawanda mi scriveva se sapevo dirgli qualcosa di più del libro Un corso in miracoli che ne parlano spesso gli operatori di luce allora in realtà ne ho parlato nel club del libro quindi sotto vi metto il link lo potete rivedere è un libro in uno dei commenti mi hanno detto ma questo è un libro che non si legge si studia in un certo senso sì perché è un libro talmente ricco talmente è stato un po' il libro sacro di tutto un pensiero di movimento di pensiero positivo a tratti anche New Age però è un libro davvero rilevante ed è un libro estremamente positivo ha una connotazione cattolica quindi parla di Dio eccetera quindi dovete vedere se come dire è in risonanza con voi come modalità di scrittura come utilizzo delle parole ma gli insegnamenti contenuti se insomma se lo andate a leggere sono estremamente preziosi ed è per questo che non è un libro tra virgolette che si legge come dire la sera prima di dormire no? ma è un libro che un po' si studia perché contiene talmente tante verità talmente tanti insegnamenti talmente tanti spunti di riflessione che perlomeno a me è stato inevitabile aver voglia di prendermi appunti di studiarmeli di disegnarmi le parole eccetera e come dicevo nel club del libro è un tomo tanto c'è anche in versione ebook che costa meno però resta un tomo tanto perché ha anche un prezzo importante nel senso intorno quasi mi pare di 30 euro anche se poi in sconto lo pagate di meno se però non volete sto tomo tanto potete prendere la versione ebook però in entrambi i casi è diciamo un libro che richiede un impegno quindi se al momento non vi sentite di affrontare questo studio potrete prendere la versione più piccola nel senso che è Ritorno all'amore di Marianna Williamson e lei parla proprio dei suoi insegnamenti rispetto al Ritorno all'amore ed è un libro anche quello molto bello poi ci sono tante variazioni c'è tipo introduzione a Un Corso in Miracoli c'è la sintesi in gocce di Un Corso in Miracoli ce ne sono tanti però l'originale che è Un Corso in Miracoli è sicuramente un libro che se diciamo avete modo io vi consiglio di leggere perché comunque è stato il punto principale da cui è partito il pensiero di moltissimi autori quindi sicuramente un libro importante e rilevante nella biblioteca di chi si occupa appunto di pensiero positivo di mente che crea insomma di tutto questo filone di concetti però potete vedere poi la recensione insomma la mia video recensione sul club del libro me ne parlo un po' di più però comunque i concetti poi sono questi Martina dice allora ho due domande per la rubrica di domande e risposte ormai voi lo sapete e io ve le inserisco qui allora il dono allora dice il dono della benedizione lei lo applica molto a chi ama e successivamente si sente stanca fisicamente e mentalmente forse pensa perché è l'enorme quantità di energia che viene smosso e voleva sapere se è una cosa normale allora innanzitutto Martina si sta parlando della benedizione della guarigione akashica nella nostra tradizione che è la tradizione che io insegno noi abbiamo una tecnica che le altre scuole non hanno di registri akashici che è la guarigione akashica fatta in un certo modo probabilmente ne avranno un'altra e non ce l'hanno perché l'ha canalizzata quella che al tempo fu la mia di maestra e quindi è una tecnica nostra che però necessita il consenso della persona siccome i miei cuori bianchi sono molto altruisti e quando non hanno il consenso volevano comunque mandare energia positiva alle persone che amano che incontrano allora abbiamo creato una sottotecnica una tecnica un po' più blanda che è quella della la chiamata benedizione in realtà è dell'augurio e però in realtà quando si lavora con akasha non ci si stanca non ci si dovrebbe stancare un po' come funziona con i rechi o con quelle tecniche energetiche che si collegano alla fonte perché voi diventate dei canali quindi il fatto di stancarsi in realtà può dipendere da due cose la prima è che magari non sia pratici e quindi comunque anche se ci si collega alla fonte il movimento energetico può essere stancante e quindi magari cercate di limitarne il numero cioè di andare per gradi progressivamente quindi di non farne troppe l'altra motivazione potrebbe essere che forse ci sta uno squilibrio nel senso forse potrebbe essere una dovresti chiedere Martina ai tuoi registri questa cosa cioè del perché ti fa questo effetto perché potrebbe essere che magari c'è qualcos'altro sotto che è disallineato perché se no in realtà tu non la dovresti avere questo effetto collaterale perché quando si lavora con Acasha poi non ci si stanca all'inizio è ovvio che se fate tante letture non siete pratici siete anche un po' stanchi come vi dico anche ai corsi vi può anche venire voglia o fame di mangiare magari un gelato di prendere qualcosa un succo di frutta una centrifuga qualcosa che vi rigeneri un po' però in realtà la guarigione è così e l'augurio è così blando che non ti dovrebbe fare questo effetto quindi probabilmente magari ne fai troppi al posto di andare a vedere delle cose quindi probabilmente ti sta dicendo ti stanno dicendo che ci sta un piccolo squilibrio quindi il mio consiglio nel tuo caso che lo puoi fare perché appunto ci sei iniziata con me e quindi so che lo puoi fare è quello di andare a chiedere al tuo registro il perché di questa di questa stanchezza per tutti gli altri appunto come vi dicevo in realtà passando per il canale dell'energia di Akasha dove voi fate solo il canale non dovreste avere questo effetto collaterale come dicevo è ovvio che se non siete pratici e fate otto letture in una giornata alla fine siete estremati quindi mettetene un paio o non di più ok altra domanda sempre di Martina come mai l'universo comprende bene un nostro no mentre una frase formulata come non voglio che mi accada questa cosa non ha effetto alcuno anzi siamo destinati a viverle cosa cambia nelle due situazioni allora in realtà l'universo percepisce la vibrazione delle parole non gliene può fregar di meno a meno che torna la risposta di prima non le dici con una certa consapevolezza e quindi vanno a essere creazione e qui subentra il focus nel senso che se tu una cosa ci sei focalizzato quando per esempio immaginate quando siete in strada e uno ti dice non guardare qual è la prima cosa che fai? tu guardi e però ha detto non ok? è quello il non che l'universo non sente perché mica è scemo tu gli dici non guardare ma in realtà lo ha incuriosito il focus della persona che ti dice non guardare vibra forte curiosità verso quel fatto vibra paura vibra stupore vibra qualcosa ma vibra potente rispetto a tutto quello che può vibrare perché noi possiamo vibrare una cosa alla volta e quindi è chiaro che quel focus è lì il no che veramente percepisce l'universo è un no silenzioso nel senso che nel momento tornando sempre all'esempio degli incanti come vi dicevo io non ci penso neanche non ci penso neanche a fare per esempio qualche azione che è contro la mia etica e quindi non è proprio ammessa non c'è nella mia mente ok? non c'è quello è un no perché è un no che non esiste quindi l'universo non lo prende in considerazione perché non esiste ok? quindi non non può succedere una cosa del genere perché non c'è dentro di me e quindi non ha un altro magnetismo esterno a cui attaccarsi nel momento invece in cui io dico no guarda non mi piace assolutamente criticare ok? e in realtà sei sulla frequenza della critica pure che hai detto il non l'universo percepisce se tu per esempio dici guarda quello che non sopporto è tu stai parlando di quello che non sopporti quindi anche che metti un non in realtà tu stai parlando di quello quindi in quel momento il tuo focus è su quello e lì il no non lo sente l'universo perché sarebbe un po' demagogico nel senso cioè dici un no di un qualcosa che in realtà sei sul punto ok? se deve avere una cosa non vi piace non vi interessa voi non la pensate proprio nel momento invece in cui siete in quello come nella mancanza di denaro no? ah dici io voglio il milione di euro non ce la faccio a pagare bollette non ce la faccio a fare questo non ce la faccio a fare questo su cosa sei focalizzato dopo aver detto per un nanosecondo che desideri una somma che pensi essere la soluzione ai problemi però per tutto il resto della giornata su cosa siate focalizzati sul non posso pagare le bollette sul non riesco a fare questo sulla mancanza e quindi lì il non o il non 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 è importante a volte i maestri ascesi dicono che noi potremmo comunicare in modo telepatico che le parole non servono ovviamente noi non siamo così elevati quindi a noi le parole servono però questo è per dire che noi vibriamo siamo dei magneti ed è quella la cosa più importante quindi nel momento in cui noi riusciamo a vibrare in positivo allora a posto nel momento in cui noi vibriamo in negativo non o non non attraiamo perché chiaramente c'è il focus uguale vibriamo in positivo e non o non non noi lo attraiamo ok quindi è questo il punto è l'attrazione non è la parola questo è davvero davvero fondamentale Diego Diego l'ultima domanda e mi piace questa domanda dice la lettura dei registri acascici è realmente uno strumento efficace e non un placebo da utilizzare in momenti di profondo sconforto mi spiego meglio purtroppo il campo del benessere e della crescita spirituale è costellato da teorie e pratiche che vanno che vendono delle illusioni soprattutto a chi sta passando periodi bui perciò volevo chiederle dammi del tu chiederti da buon scettico possibilista in cosa si differenziano queste letture quando la suggestione conta quanto la suggestione conta per avere un buon risultato allora mi piace questa domanda perché mi dà la possibilità di parlarvi di Acasha allora innanzitutto Acasha è la quinta dimensione Acasha è l'etere ed è di per sé un'energia di guarigione quindi nel momento in cui si aprono i registri acascici appunto per questo dico sempre fate le letture con una persona capace con una persona che ispiri la vostra fiducia eccetera nel momento in cui i vostri registri vengono aperti l'energia di Acasha inizia a giungere a voi Acasha è un'energia intelligente e quindi a volte sa già cosa fare dopodiché è ovvio che tra virgolette ad una persona che non vuole vedere anche un miracolo risulta una banalità o non lo vede a persone invece che si mettono lì ad osservare e che utilizzano questa opportunità Acasha dà una grande mano io alla luce delle tante letture che ho fatto ti posso dire questo nella nostra tradizione come dicevo anche prima noi abbiamo le letture e la tecnica della guarigione perché perché al contrario di altre persone che leggo nei registri che non ho conosciuto direttamente ma le persone che si sono rivolte a me mi hanno detto noi per tradizione non ci limitiamo a dare la risposta del tipo non lo so quale erano le mie vite precedenti cioè che è successo nella mia vita precedente nella tua vita precedente sei stato prigioniero punto continuo a soffrire no noi abbiamo un modo di lavorare con Acasha che è nel momento in cui io vengo a sapere un'informazione io la uso per guarire quindi lo scopo delle nostre guarigioni cioè delle nostre letture è sempre uno scopo di guarigione che cosa vuol dire vuol dire che Acasha lavora sul piano energetico la guarigione abbiamo notato che per alcune persone ha proprio avuto effetti miracolosi e le testimonianze sono su Registri Acashici il libro della vita cioè appunto una ragazza che aveva dei problemi agli occhi stava addirittura rischiando di diventare cieca e il suo occhio è diventato operabile quindi ha potuto fare questa operazione è anche andata bene è tutto scritto là c'è la sua testimonianza un altro ragazzo per esempio stava litigando aveva un po' discusso con uno dei più cari amici abbiamo capito perché era avvenuto questo e lo siamo andati a guarire e la guarigione Acashica gli ha permesso di essere più come dire più paziente più cosciente di vedere di disinnescare la dinamica tra di loro e nel momento in cui lui iniziava ad avere un comportamento differente più maturo più saggio più distaccato l'amico ha risposto bene e hanno ripreso il rapporto te ne potrai fare anche altri però te ne potrai fare anche di altre persone che o non mi hanno dato feedback perché giustamente so fare i loro oppure che non hanno ricevuto niente di niente quando si lavora con le energie non è matematica quindi non si può dire sicuro sì sicuro no quello che ti posso dire alla luce della mia esperienza dopo essere diventata una maestra di registri aver fatto tantissime letture aver iniziato altre persone è che sicuramente l'approccio personale è fondamentale nel senso che attascia un'energia molto delicata e addirittura quando io apro i registri delle persone ci sono persone che la avvertono subito sentono come un abbraccio c'è chi si sente un calore e chi non sente niente non è che vuol dire però chi si pone in modo scettico e vuole delle prove per esempio tipo non sento non vedo queste sono tutte cose della mente e chiaramente Akasha lavora dal cuore e quindi è molto più difficile cioè e soprattutto sono energie elevate quindi non sono energie che stanno lì per come dire dare conferme agli scettici se ci vuoi credere diciamo così buon per te se non ci vuoi credere fa nulla ok questo è un po' un principio base l'effetto placebo in realtà in Akasha ci fai un po' poco perché quando Akasha arriva dandoti la sua frequenza vibrazionale non è tanto autosuggestione ok non serve ma serve lasciar fluire e quella è una cosa che l'effetto placebo ti può dare poco nel senso che non è che Akasha perlomeno come ci lavoro io non è tanto la pacca sulla spalla tipo tranquillo tutto a posto non è tanto questo è che magari senti qualcosa di profondo però lo senti tu lo puoi sentire non lo puoi sentire è ovvio che io questo lo dico sempre sia chi fa l'elettore che chi fa i corsi di iniziazione non c'è la certezza matematica perché magari molte volte la via di Akasha è così se c'è una persona molto razionale per esempio magari la sua prima sfida è proprio quella di diventarlo meno è proprio quella di lasciarsi andare magari invece un'altra persona che si lascia completamente andare la sua sfida diventa il limite cioè mettere dei limiti dei paletti perché comunque poi quell'energia deve essere canalizzata in un piano materiale quindi diciamo che l'effetto placebo in Akasha è un po' poco perché non è tanto quella cosa di andrà tutto bene andrà tutto bene Akasha è attiva per lo meno ripeto come la facciamo per come la faccio io e come la fa la mia scuola è guarigione quindi noi andiamo per guarire quello che io insegno ai miei allievi anche perché poi io invito tutti in realtà imparare a leggerseli i propri registri e non utilizzare un intermediario perché poi in Atlantide tutti sapevano accedere ai propri registri e quindi che succedeva che nel momento in cui trovo la problematica io la guarisco cioè il nostro obiettivo è quello di uscire dalla problematicità una volta una mia allieva una mia cuore bianco mi ha detto ho fatto una lettura Akashica con una persona mi ha detto le mie vite passate sono stata prigioniera sono stata torturata sono stata questo sono stata male due settimane e io le dissi scusa ma che pro una volta che tu sai quella cosa andiamola a guarire quindi facciamo la guarigione Akashica di quella problematicità questo è il nostro modo di lavorare in Akasha ovviamente è energetico quindi manco la medicina può dare un 100% di riuscita forse un po' la matematica che non è un'opinione però per il resto c'è sempre un'alea di imprevedibilità anche nei giudizi legali anche quando mi capitava un cliente che aveva sulla carta tutte le possibilità di vincere una causa un buon avvocato ti dirà sempre non abbiamo la certezza di vincerla perché c'è l'alea del giudizio quindi un giudice messo in un modo eccetera per fortuna i fattori energetici non subiscono l'intervento umano di persone esterne però quello nostro sì quindi il mio consiglio quando si lavora con Akasha è quello di lasciar fluire lasciar fluire ma osservare io dico sempre anche ai miei allievi rimanete scettici osservate fatevi stupire quando io ho iniziato il mio cammino con Akasha mi sono trasformata tantissimo come persona e non è sempre stato facile non mi sono autosuggestionata mi sono rimboccata le maniche che era molto differente sono sempre uscita dalla mia comfort zone quindi secondo me c'è un flusso di energia positiva amorevole di guarigione un'energia intelligente che sa dove andare e un lavoro personale che deve aiutare questa energia non autosuggestionarsi perché con l'autosuggestione non vai da nessuna parte se è affine a se stessa quindi nel momento in cui per esempio mi veniva detto dai miei registri che magari dovevo non so uscire fuori dalla comfort zone io andavo a guarire l'insicurezza nel momento in cui i registri mi dicevano di non so di diventare più non lo so intraprendente io andavo a guarire la paura del giudizio quindi ecco questa è la modalità è chiaro che bisogna impararla cioè ripeto e poi le guarigioni akashiche e su questo anzi invito chi le ha fatte con me o con altre persone a darci la loro esperienza perché ogni ogni come dire ogni lettura akashica è a sé io ricordo ne ho fatte tante ricordo esperienze completamente diverse registri che parlano proprio dritti sì no questo registri più chiacchieroni per esempio una persona gli ho fatto una lettura akashia e vibrazione quindi i registri non parlano molto quelli che sono molto chiacchieroni sono i maestri ma è un'altra cosa e ho fatto una lettura a una persona e la parola che mi venne per come risposta alla sua domanda era sincopato io avevo imparato a riportare perché sono un canale non non devo intromettermi quindi ho detto questa parola boh vabbè alla fine della lettura la persona mi ha detto la parola che mi ha davvero sbloccato che ho sentito come se fosse una chiave un qualcosa che mi ha risuonato è stato quando mi ha detto sincopato perché io sono musicista quindi diciamo che il lettore è un tramite tendenzialmente è un tramite finché uno non si sa leggere da soli che dovrebbe essere quello che tutti dovrebbero fare perché akasha è appunto questo flusso di energia di guarigione di amore è la quinta dimensione e il registro akashico è l'accesso al proprio sé superiore quindi nel momento in cui riesce ad accedere al tuo sé superiore poi ho un qualcosa che fai con te stesso quindi è un viaggio personale e a ognuno lo porta dove vuole arrivare dove può arrivare dove si mette in testa di arrivare quindi se una persona trova un ostacolo inizia a dire tipo non sento non riesco non faccio si blocca se una persona dice ok e quindi cosa faccio prova a sbloccare prova a fare la guarigione prova a fare è un lavoro interiore quindi quindi questo ecco ho cercato di darti più informazioni piuttosto che come dire la risposta poi vorrei che la formulassi tu ti ho dato appunto tutte le informazioni per come si differenzia da altre da altre tecniche quindi è questo efflusso energetico che porta delle risposte vibranti ecco tendenzialmente che cos'è e che è molto diverso da canalizzare i maestri ascesi che è un'altra cosa è un'altra cosa il registro acascico è l'accesso al sé superiore ed è una energia che vibra e alcune parole più di altre ti vibrano e sbloccano e dove sai che invece perché magari molti hanno già fatto cammini su di sé quindi sanno che il proprio problema è l'insicurezza la paura di parlare in pubblico e non sa altre cose e la problematicità della vita precedente perché magari uno la sa le va proprio a guarire infatti le mie sedute di lettura sono composte così o informazione quindi domanda a fine di guarigione o se già la sapete guarigione io faccio alle persone che ne sono consapevoli che sono pronte loro invece di 7-8 domande mi mandano 7-8 cose da guarire e io faccio guarigioni acasciche dicendo appunto che io la faccio cioè applico la tecnica e poi ecco quel che deve essere sarà perché sarebbe davvero scorretto dire sì sicuro funziona no non funziona è una cosa che bisogna andare a vedere se andate vi invito anzi a iscrivervi su registri acascici libro della vita che è il mio gruppo facebook dedicato ai registri acascici dove mettiamo le canalizzazioni parliamo dell'oracolo dei registri parliamo dei maestri ascesi e di tante cose belle ci stanno anche le vostre testimonianze delle letture che avete fatto e anche delle guarigioni quindi chi chi l'ha ricevuta completa chi una parte e anche chi riceve solo una parte di guarigione arriva a volte a capire perché ripeto il lettore fa da tramite ma l'esperienza una delle cose meravigliose di acasciche è che l'esperienza è personale quindi mio caro Diego spero di averti risposto più che altro averti dato un po' di informazioni e poi insomma ovviamente è una cosa che va provata ecco quindi io ho finito questo mese non avevamo tantissime domande ma erano molto corpose infatti abbiamo fatto la solita nostra mezz'oretta detto questo a brevissimo vi darò una mega super notizia che adorerete spero di darvela davvero 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 presto se non sei iscritta al canale youtube delle leggi della magia fallo subito se questo video ti è piaciuto regalaci un like se hai altre domande scrivimi nei commenti e ti rispondo nel video di domande e risposte del mese di agosto tanta tanta tantissima luce ciao